Si stava recando a un motoraduno ad Anzio ma purtroppo non è mai arrivato a destinazione. Tragico incidente ieri in via delle Pinete a Torsalorenzo, Ezio Lanzi, un 32enne del posto, ha perso la vita in sella la sua Ducati di grossa cilindrata. A quanto pare l'uomo stava superando una lunga fila di auto quando all'altezza di via dei Casali si è scontrato con una Renault Megane che nel frattempo era in procinto di svoltare. L'impatto è stato violento, il centauro è stato sbalzato per diversi metri finendo sotto un'altra macchina. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e il personale del 118 lo ha stabilizzato per poi trasportarlo presso l'elisuperficie di via dei Tassi ma il 32enne ha smesso di respirare prima del decollo. Il conducente della Megane, un romeno che viaggiava insieme alla moglie, è stato sottoposto ai test di rito e i primi risultati avrebbero dato esito negativo. Le indagini sull'incidente sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Anzio. L'ultimo scontro mortale ad Ardea risale lo scorso novembre quando a perdere la vita fu un giovane di appena 22 anni.